mister qual è la prima sensazione il primo sentimento dopo questo trionfo non c'è uno ce ne sono tanti quindi una gioia immenza sicuramente non era facile siamo partiti oggi faccio un po rivivo un po l'annata ho sempre detto che mi piace fare i conti alla fine oggi è finito il campionato i ragazzi sono stati veramente fantastici perché hanno fatto un qualcosa di incredibile siamo partiti con tante difficoltà siamo partiti in ritardo rispetto agli altri mille problemi perché ripartire non era facile dopo una retrocessione quindi piano piano la squadra subito dopo la partita di manto ho visto un atteggiamento diverso ci siamo calati nella realtà della categoria che non era facile piano 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 con il lavoro un passo alla volta siamo riusciti ad arrivare nelle zone alte della classifica poi abbiamo avuto un periodo di riflessione che è normale fisiologico durante un'annata però piano piano con la squadra quando tutti pensavano che fosse già tutto finito subito dopo la partita di fermo io ho parlato con i ragazzi ho detto io ci credo ci credo finché la matematica non ci dirà chi sarà il vincitore del campionato ho detto noi ci dobbiamo credere lo dobbiamo fare per noi perché il nostro lavoro non possiamo pensare playoff a 6-7 giornate dalla fine non lo accetto e quindi da lì siamo ripartiti subito dopo mi ricordo subito dopo la partita col sud tirol ho detto noi arriveremo primi ma perché una sensazione che sentivo dentro perché vedere lavorare i ragazzi durante la settimana e vi assicuro non è facile lavorare durante la settimana con me perché sono una rottura di scatole durante la settimana sono peggio di quello che vedete in partita i ragazzi veramente i ragazzi sono stati eccezionali ripeto non era facile ci godiamo questo bellissimo momento perché tutta la città di perugia i tifosi tutte le persone è giusto che in questo momento siano felici stiano vicini ai ragazzi a tutta la squadra la società a tutti noi quindi ci godiamo questo momento l'anno scorso sia tu che il perugia avete sofferto e si era aperta una ferita con quella retrocessione tu con la juve stabia il perugia in quel play out col pescara come hai fatto a cicatrizzare quella ferita per te e per quel gruppo vi assicuro che per me è stato difficile perché il retrocedere con la juve stab è la città la mia seconda città la mia tra virgolette creatura perché poi alla fine me la sentivo me la sono sempre sentita mia con la squadra perché sono stato tanti anni da calciatore poi da allenatore quindi la responsabilità era maggiore ci sono rimasto veramente tanto male perché dopo il periodo del il primo periodo del covid noi non siamo non siamo più scesi in campo non era facile l'anno scorso non era accettare buttare giù quello che è successo per me personalmente è stata una batosta quando sono venuto a perugia ho visto che c'erano tante difficoltà però a me piacciono le difficoltà lavorare nelle difficoltà ti fortifica ti aiuta a crescere soprattutto nel con col mestiere che faccio io non è non è facile però ti aiuta ti aiuta a crescere se vuoi fare questo mestiere fallo in piazze importanti come castellammare come perugia non è facile dove la pressione è tanta dove arrivi in una situazione drammatica perché adesso possiamo dire la drammatica per via della regolazione era non sapevamo da da dove partire però ripeto grazie alla disponibilità parte di tutti si è fatto un lavoro eccezionale a proposito di pressione ieri c'erano 3 4 generazioni di perugini davanti allo stadio renato curi che effetto ti ha fatto personalmente e che cosa hai detto in più ai ragazzi dopo le parole di quella gente ma io lo notavo anche durante l'allenamento perché i tifosi riuscivamo a sentire tifosi che stavano fuori e quindi la pressione si avvertiva infatti durante l'allenamento ho visto un cambiamento un cambiamento totale da parte della squadra e sinceramente ho fatto una settimana abbiamo fatto una settimana senza mai parlare della della squadra avversaria senza mai parlare della partita perché mettere pressioni queste partite non conta anzi meno meno ne parli è meglio è solo questa mattina con l'aiuto di alcune persone sono sono ho voluto fare fare una cosa per entrare ancora di più dentro ai giocatori fare dei video dei propri familiari figli mogli e tutti i parenti tutte le persone care di ogni singolo calciatore e proiettarli questa mattina prima di venire allo stadio per fare capire quanta sofferenza quanta gioia quanta quanto c'è dietro a ogni singolo calciatore a ogni singola partita e questo io ero convinto infatti dopo la riunione ho visto ho visto tutti piangere piangere della dell'emozione della dell'importanza della gara per cercare di regalare un qualcosa è una gioia a chi ha il figlio chi ha la moglie chi ha tutte le persone e lì ho capito infatti ho detto il mio staff oggi sono convinto di vincere perché ho visto gli occhi dei ragazzi pieni di lacrime ero convinto oggi di una una partita del genere oggi ha vinto il hanno vinto tutti i convocati anche quelli che erano infortunati però ti voglio chiedere una parola su quello che è un tuo soldato perché a salvatore elia rimproveravi spesso a castellammare di stabia il poco cinismo sottoporta otto gol quest'anno oggi gli hai detto qualcosa di detto qualcosa in più quest'anno no no ho fatto giocare in un ruolo diverso rispetto alle caratteristiche e secondo me quel ruolo lì davanti non è il ruolo che si addigia ad elia perché è un ruolo a lui piace stare lungo la fascia a puntare l'uno contro uno però secondo me lì se capisce che deve essere anche più cattivo sottoporta può fare la differenza perché poi in queste categorie un giocatore con quel passo fa fatica a trovarlo non mi va di parlare dei singoli oggi perché la forza la la vittoria di un gruppo intero mi va di dedicarlo a tutte le persone a me cari miei figli e mia moglie mia mamma le mie sorelle tutte persone a me care ma in particolare a pasquale che un mio collaboratore che non sta attraversando un momento bello di della sua vita però io quello che gli ho detto quello sa cosa proprio io per lui perché io nella mia vita ho avuto la sfortuna purtroppo di perdere un fratello a 39 anni però ho avuto una fortuna trovare una persona come lui che repute un fratello e quindi gliela voglio dedicare a lui in questo momento sono convinto in questo momento di difficoltà e ne verrà fuori alla grande perché è un leone quindi ne verrà fuori perché poi tra l'altro a giugno diventerà anche papà quindi deve fare pure in fretta questa vittoria per pasquale dedica tutta perugia ma ti chiedo anche se tu sei sempre una persona che si mette un po da parte rispetto anche agli onori vincere oggi significa entrare anche nel pantheon dei grandi allenatori di perugia ti fa effetto stare con i castagner con i cosmi è un motivo d'orgoglio già sedersi su quella panchina ci sono tanti allenatori che vorrebbero stare in quella panchina e non confondiamoci comunque no è un motivo d'orgoglio sono già veramente far far l'allenatore su questa panchina è un qualcosa di indescrivibile un'emozione unica e pressione impressioni altissime quindi far parte di questa categoria di allenatori ripeto un motivo d'orgoglio sono fiero però ripeto senza l'aiuto del mio staff che ringrazio veramente tanto veramente loro mi mi sopportano giorno dopo giorno e senza l'aiuto della società della anche anche dei tifosi che sono stati sempre vicini anche nei momenti difficili e ai miei ragazzi niente di tutto questo poteva veramente accadere a a a a a a a a a